Il primo piano la campagna vaccinale, sono già 200.000 le somministrazioni di terze dosi in Abruzzo, un numero che crescerà anche nelle prossime ore, considerato che nella giornata di ieri molti degli hub sono rimasti chiusi per la festività dell'Immacolata. C'è una corsa soprattutto da parte dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e del mondo della scuola per i quali il 15 di dicembre scatterà l'obbligatorietà della vaccinazione, questo naturalmente per quel che riguarda le prime dosi, ma anche i richiami. La situazione anche di approvvigionamento di vaccini è positiva per l'Abruzzo, che è la seconda regione per terze dosi vaccinate rispetto alla platea di riferimento. Non ci sono al momento problemi di scorte di Pfizer come in altre regioni, ma insomma un po' tutti gli esperti raccomandano che la vaccinazione eterologa non è assolutamente un problema. Vediamo se è così, lo facciamo proprio con un esperto in diretta con noi e con la nostra Marina Moretti, che è nella sede della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti. A te Marina con il professor Vecchietti. Buon pomeriggio. Esatto, con il professor Vecchietti, il direttore proprio da malattie infettive qui da Chieti. Quella che hai appena fatto, il concetto che hai appena espresso, rientra in una delle 1800 domande che ho già rivolto fuori dal microfono al professor Vecchietti, perché sono tanti i dubbi di ciascuno di noi, sono tante le perplessità, sono anche tante le domande che ci arrivano da parte dei cittadini che in qualche modo ci consegnano il testimone e ci chiedono di indagare. Visto che Rete 8, a quanto pare, una sua autorevolezza ce l'ha, si fidano di noi, soprattutto si fidano di voi. E allora, quel concetto espresso poco fa dal direttore Carmine Perantuono è proprio il cocktail, il cosiddetto cocktail o vaccinazione eterologa o il booster con Moderna, visto che si parte da una situazione di scorte a rischio per Pfizer, almeno momentaneamente, così si dice, nel senso che sono state utilizzate di più le Pfizer, le dosi Pfizer rispetto a Moderna e quindi di Moderna ce n'è un po' di più al momento di vaccini. Però molte persone che hanno fatto Pfizer hanno delle perplessità a mescolare e lei, professor Vecchietto, ribadisce ancora una volta che invece non ci sono problemi. Ma guardi, se fossi io a dirlo mi preoccuperei. È la letteratura che lo dice. Sono i dati che hanno dimostrato come i soggetti che hanno effettuato questo tipo di programmazione vaccinale e hanno avuto un'ottima risposta anticorpale senza avere poi effetti collaterali confrontando con chi aveva semplicemente fatto lo stesso tipo di vaccino. Si dicono tante cose sul Covid, sul vaccino forse anche troppe, al punto che qualcuno dice addirittura no, è meglio fare il cocktail, oppure no, adesso il vaccino dura quattro mesi e quindi fra quattro mesi lo dovremo rifare. Se ne dicono un po' tante. La verità qual è? Che comunque Moderna e Pfizer, avendo lo stesso principio, tra l'altro sono intercambiabili per così dire, e che laddove venissero meno le dosi Pfizer andrebbero benissimo quelle Moderna, e sul fatto della durata, perché qualcuno si spinge addirittura a dire dura più Moderna o dura più Pfizer. Lei cosa può dirci? Ma sa, anche questo è frutto un po' di interpretazioni diverse. Gli studi, a seconda della fascia di popolazione, danno dei risultati diversi. È chiaro che un soggetto anziano, in virtù dell'immunosenescenza, può avere una risposta anticorpale più breve. Però, diciamo, rimane il fatto che sicuramente con la terza dose tutto questo si annulla, perché il sistema immunitario viene stimolato e potenziato, e quindi rimane l'invito a fare la terza dose o, eventualmente, soprattutto chi non ha ancora fatto le prime due, di segnarsi sui siti e provvedere. Ci sarà una quarta dose, verosimilmente? Ma guardi, io in qualche modo me lo auguro. Cioè, a me piace pensare che questo virus debba essere sconfitto attraverso la vaccinazione con un vaccino che debba essere modificato ogni volta in base alle varianti che emergono. Un po' come con l'influenza. Questo quindi vuol dire che non è che ci auguriamo la quarta dose, ma che pensiamo che la quarta dose possa contribuire un altro pezzettino alla sconfitta del virus. E questo anche per smentire quelli che pensano che sia i medici che i giornalisti guadagnano su ogni dose di vaccino fatta. No, posso garantirle che io non ho nulla da guadagnare. Noi abbiamo un obiettivo che, paradossalmente, non è la vaccinazione. L'obiettivo è sconfiggere il virus. Il mezzo migliore è la vaccinazione, perché in termini di prevenzione, così come abbiamo visto con tante malattie infettive veicolate appunto da virus, la vaccinazione è lo strumento migliore che noi abbiamo. Carmine, se mi consenti, volevo fare un'ultima domanda, non so se vuoi farne una tu, ma anche sull'andamento dei ricoveri e sulla situazione che c'è in malattie infettive, sulla tipologia dei ricoverati, i più vaccinati, i più non vaccinati, i più bambini, i più grandi, i più adulti, i più anziani? La nostra sensazione, che poi è quella che troviamo anche da dati di letteratura, è che comunque il vaccino ha un ruolo protettivo. Quindi il soggetto vaccinato, anche nella malagurata ipotesi che debba contagiarsi, difficilmente arriva a quei quadri così gravi di insufficienza respiratoria, che noi abbiamo visto un anno fa e che purtroppo continuiamo a vedere nei soggetti che non hanno fatto la vaccinazione. Carmine, hai domande? No, mi sembra chiarissimo quello che ha detto il professore. Ci rimandiamo naturalmente al tuo approfondimento, Marina, proprio con il professor Vecchietto questa sera alle 20.05. Grazie, grazie ancora al professore. Sì, permettimi allora di ringraziare Andrea Berardinelli con la telecamera, che ha consentito questo collegamento e naturalmente anche il professor Vecchietto. Grazie, grazie, buon lavoro.